Si aggirano strane presenze e assenze alla Villa Medeo. Non è fantascienza, ma un singolare caso che si verifica ormai da mesi, a detta dei più assidui frequentatori di uno dei polmoni verdi della città. Ogni mattina il custode apre i cancelli del parco comunale, ispeziona la zona e si posiziona nel suo casello. Fin qui nulla di strano se non fosse che dopo poco tempo, sotto gli occhi increduli dei cittadini, sembra scomparire. Nessuno tra i presenti riesce a rivelare l'arcano, fatto sta che, senza il suo custode, i bagni della villa comunale restano chiusi ai cittadini, creando inevitabili disagi non solo ai piccoli visitatori che trascorrono qualche ora tra gli scivoli e dondoli del polmone verde, ma anche ai meno giovani, spesso costretti a recarsi al bar vicino. Un vero peccato se si pensa che la cura degli spazi verdi sembrerebbe essere quasi impeccabile lungo tutta l'area, così come le giostrine, da poco ristrutturate e mai più vandalizzate. Resta ancora vuota la fontana che si trova in corrispondenza dell'ingresso principale del parco comunale. Nessun gioco d'acqua al centro della villa, ma soltanto una vasca vuota e anche un po' sporca. Tutto il resto del parco è invece pulito e curato ed i suoi visitatori si ritengono soddisfatti di un luogo in cui possono concedersi le loro consuete passeggiate in compagnia dei propri amici. Grazie. Grazie.